Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come La nuova fiamma di Tommaso Trussardi è completamente diversa da Michelle Hunziker Ecco di chi si tratta.Lo scorso gennaio, Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi annunciavano la loro separazione dopo otto anni di matrimonio e due figlie nate dal loro rapporto, Sole e Celeste che sono molto amate dai loro genitori Dopo la storia con l'imprenditore, la Hunziker è stata beccata insieme all'ex Geffino e medico Giovanni Angiolini mentre per Tommaso sembra non esserci stata nessun'altra donna fino ad ora Tommaso Trussardi, ecco la nuova fiamma.Infatti, Trussardi è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna insieme ad una donna su una barca durante una gita sulla costa amalfitana e sembra che tra i due ci sia una grande confidenza Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video